Stavo pensando punto non puoi chiedere a nessuno di mettersi contro il presidente degli stati uniti tutti hanno una paura fottuta di farlo punto mi pare una cosa normale anche io avrei paura punto hai visto sigonella mattei gardini quelli mica scherzano punto sono i buoni sono un gran popolo ci hanno convinto anche del fatto che i cattivi erano gli indiani e loro erano i buoni avevano john wine eccetera punto hanno hollywood e barbie e anche woody allen allora ho una proposta punto smettiamo di fare tutte le altre elezioni e tutti votino solo il 24 novembre per eleggere il prossimo presidente degli stati uniti mi sembra una cosa onesta da fare punto è lui che ci comanda tutti allora tutti lo dobbiamo votare punto non vi pare non dico che preferisco questo o quello dico tutti dipendiamo dalle sue decisioni punto votiamolo anche noi vuoi vedere che la stensione diminuisce